Oggi con Citroën, Sara Picasso, fino a 5.000 euro di supervalutazione del tuo usato che vale zero. È un'offerta da non perdere. Zitto! Che mi sono inventato il caffè decaffeinato! Prova! Ma che sta acqua calda? Eh certo, gli ho levato tutto. Eh, ma gli ha levato pure il caffè. Merlì, dammi retta. Prova questo. Buono! Ma questo è caffè normale. Ah, Merlì, è la mazza decaffeinato, ma è buono come un caffè normale. E con l'acqua calda? Eh, ce le si è patate. Ecco l'idea! La patata lessa! Bella, bravo. Oh, t'aveva a fregare, eh? Serial Killer Movie Collection. I thriller più famosi e inquietanti in una raccolta di DVD imperdibile. Serial Killer Movie Collection. Il primo film, il silenzio degli innocenti, è già in edicola. Vai ora! Il nome della mia pasta di riso? Pasta riso all'italiana. È riso al 100%. Perché all'italiana? Perché è fatta come piace a noi, che resti al dente. Ha il colore naturale del riso. Un nuovo primo piatto per mantenersi in forma con tutto il benessere del riso. Dr. Scotti! Come non ne mangio abbastanza? Ma se mangio solo le sue penne. Pasta riso all'italiana. Qui c'è riso Scotti. Riso Scotti. Vivere bene, mangiando. Beyoncé. Una doccia. Lunga un sogno. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande e ci vuole un pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Cinghiale. Cinghiale. La grande marca. L'aceto balsamico di Modena Ponti rende irresistibile qualsiasi cibo. Da quelli più inaspettati a quelli più tradizionali. Aceti balsamici di Modena Ponti. Più gusto ad ogni gusto. Mal di schiena? Quando con gli anni i dolori aumentano, c'è Momendol. Momendol ha una doppia azione. Allontana il dolore mentre combatte l'infiammazione. È un medicinale a base di naprosere sodico. A controindicazioni e a povere effetti indesiderati. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare sotto i 16 anni. E' un silicato dimetrico a frattura con coide. Di che parlo? C'è un modo più appassionante per conoscere i minerali. Minerali da collezione. Scopri i tesori del nostro pianeta con esemplari di grande formato. In edicola a un euro. L'ametista. Capito? Quando porti in tavola Woody Aya è sempre una festa. Woody Aya porta in tavola la fantasia. Non avrò pace finché non avrò dimostrato quello che dico. Perché io so esattamente chi ha ordinato questo crimine. Ci sono prove che la principessa sia stata eliminata dai servizi segreti. Esiste davvero l'arma micidiale. Il super flash che avrebbe cercato l'autista di Diana e Dodi Al-Fayed. Nove anni dopo l'incidente nel tunnel dell'Alma a Parigi. Il caso non è chiuso. I misteri di Lady Di. A Speciality G1. Domenica ore 23.10. Rai 1.